4-5-1 Centrale Zubisareta para Desai L'azione del Barcellona Parte il cross in profondità La palla L'Abiola Desai Campionato Colpo di testa di Desai Desai La palla Converge Sergi Desai Savicevic La laterale Siamo al 44-15 del primo E viene ancora fermato Poi Desai Desai Ovazione da parte dei sostenitori del Milan Desai Largo Desai Attenzione Desai Massaro Desai Grande Milan E ancora questa volta Koeman Romario Ratavicevic Sempre lui Desai Albertini Desai Solo Goal E solo Quella squadra che ha meritato L'ammirazione anche dei giocatori del Barcellona Desai Eccolo Romario Molto spostato Raddoppio Vincente Desai Romario su di lui Resiste Ora cambiamenti sul fronte d'attacco Del Cosa Ma è un dominatore Eccolo Romario Fermato da Desai Tassotti Desai Eh Perché bravo E tesi propendere Perché molto più Si dice Una squadra è più rodata Dal Desai Fare le feste Che i tifosi del Milan Arrivati qui ad Atene E quelli rimasti in Italia A patto di concentrazione Ed ecco la Desai Che i tifosi del Milan